Tutto pronto per questa prima serata? La presentatrice stava un attimo prendendo un boccone, un boccone stavo mangiando, un'oliva, un'oliva. Massimo un'oliva, altrimenti tutto stretto va qua. Allora, insomma, scherzi a parte, prima serata di questo karaoke, ospitati in questo bellissimo scenario della Casa delle Energie, tante adesioni. Molte adesioni, sì, sì, infatti i ragazzi, devo dire, si sono tutti impegnati tantissimo, li ho sopportati, anche supportati, perché sono venuti a provare, a riprovare, insomma, l'hanno presa molto seriamente. Mi fa piacere, perché anche se un gioco, diciamo, chiamiamola un gioco, perché sono dilettanti, però l'hanno presa seriamente, anche il gioco ha le sue regole, no? E quindi sono molto contenta per loro, insomma, perché per loro e anche per questa iniziativa, sfondo umanitario, che sicuramente è una cosa bellissima. Gabriella Rossi, presidente di Tecla Onlus, ha la Nicole come mascotte, che sono con noi tutta la sera. Allora, Gabriella, un'altra iniziativa in favore di Tecla Onlus, come stanno procedendo questi progetti? Adesso abbiamo un momento un po' critico, perché iniziamo a interagire con una grande Onlus, che è Medici Africa QAM, collegio universitario aspiranti medici missionari, e apriamo in un altro paese. Per cui è un momento molto delicato, perché vorremmo fare qualcosa di diverso. Dato che io sono andata in pensione da due mesi, vorrei fare il medico in Africa e soprattutto in Tanzania. Infatti sto cercando di fare tutti i documenti per essere riconosciuta proprio dal paese. Però, per essere più tranquilli, stiamo cercando di interagire con questa grande ONG, che è la ONG con sede a Padova, la più vecchia in Italia, e lavora già da 60 anni in Africa. E abbiamo trovato già un ospedale con un progetto di malattie croniche, di prevenzione, molto interessante. Per cui stiamo iniziando per ripartire, io andrò giù ad aprile, perché i nostri progetti, sia in Madagascar che in Sierra Leone, sono conclusi. E non so se tu lo sai, però ho riguardato un pochino le statistiche. In Italia c'è un medico ogni 250 abitanti, mentre in Africa c'è un medico ogni 60.000 o 70.000 abitanti. Per cui la necessità dei medici ci sono e credo che effettivamente la nostra esperienza, l'interazione con loro sia una cosa molto positiva.